Porta alla firma dell'ormai ex ministro Marco Minniti il decreto di conclusione del procedimento avviatosi nell'ottobre scorso per la verifica dell'esistenza di infiltrazioni mafiose nel comune di Villa San Giovanni. Un decreto firmato dal democratico Minniti quando già era sulla soglia del Viminale il 30 maggio scorso e motivato sulla base della relazione del prefetto che in data 15 maggio ha evidenziato l'insussistenza delle condizioni legittimanti, lo scioglimento dell'ente ma anche perché gli elementi complessivamente emersi non presentano la necessaria congruenza rispetto ai requisiti di concretezza, univocità e rilevanza richiesti dal modello legale. Un'attesa durata due mesi dal 10 aprile giorno del deposito della relazione della commissione di accesso nominata dal prefetto Michele Di Bari il 12 ottobre su delega del ministro poi prorogata per altri tre mesi. Una vera spada di Damocle l'esito dell'accertamento antimafia che ha pesato non poco sulla politica cittadina e sull'amministrazione come ricordato dalla stessa facente funzione Maria Grazia di Chichi nel corso dell'ultimo consiglio comunale il 25 maggio scorso. Sempre fiduciosi nel buon esito dei lavori della commissione la maggioranza di centrodestra ha affidato alle parole del capogruppo Francesca Porpiglia i commenti a caldo sull'onda dello slogan anche l'ombra è stata levata. La Porpiglia parla a nome di centrodestra villese ma anche di tutti i cittadini villesi sottolineando come un eventuale scioglimento per mafia avrebbe significato macchiare per sempre in modo indelebile un comune importante dell'area dello stretto i cittadini e i giovani amministratori. Nelle parole della capogruppo le ragioni della maggioranza sull'archiviazione del procedimento lasciateci dire che per Villa e per i villesi è il momento della soddisfazione del trionfo dello stato di diritto.